Soltanto 5 anni fa veniva celebrato ai draft NBA con la chiamata da sesto. Ieri ha deciso di ripartire con maggiore determinazione dal palafantozzi di Capodorlando. Johnny Flynn, Stella di Minnesota, Houston e Portland, è stato salutato ieri dai suoi nuovi tifosi in una sala stampa affollatissima dell'impianto orlandino. Sorrisi ed una inattesa emozione per il playmaker 25enne, fermato un anno fa da un'infortunia all'anca, ma che lo staff medico di Capodorlando ha promosso a pieni voti alle visite per il prossimo campionato di Serie A. Per Flynn, infatti, l'impatto con l'Italia è stato soprattutto quello con una piazza in cui c'è grande entusiasmo intorno al basket. La prima sensazione della città è che tutti siano una grossa famiglia, a partire dalla società e dalla squadra, e ovviamente direttamente ai tifosi, si trovano in una nuova situazione, che è totalmente differente da quelle che ha affrontato in passato, ma gli piace, gli piace questo nuovo contesto e farà di tutto per ambientarsi al 100%. Si aspetta di ottenere molte vittorie con Capodorlando, è grato alla società e a tutta l'orlandina per l'opportunità che gli è stata data. Non ha bisogno di ottenere motivazioni, è solo veramente contento di poter tornare sul parquet e di assaggiare di nuovo quello che vuol dire la pallacanestro per lui. Si aspetta di avere un'annata molto importante qui in Serie A. Come hai lavorato l'ultimo anno? Che tipo di lavoro hai svolto? Ha preparato il suo corpo al meglio, con chiroterapia, pesi, agilità, per essere pronto e lavorare al meglio per un club come Capodorlando e per rilanciarsi adesso in Serie A. Una scommessa per il direttore sportivo Giuseppe Sindoni che se risultasse vincente farebbe fare un enorme salto di qualità all'Upea per la prossima saggione. Intanto da oggi tutti gli allenamenti dell'orlandina si spostano al palafantozzi in vista delle prime amichevoli in programma.